Benvenuti Giovanni Panda One in questo nuovo video di Life is Strange Sono contenta che vi stia piacendo la serie e andiamo avanti Eravamo rimasti qui in questo giardino, in questo cortile della Blackwild Academy Vediamo un pochettino, dobbiamo... Allora, intanto qua per terra ci sono i soliti volantini Dovevo parlare con questa professoressa È tardissimo ragazzi, sto registrando che sono le due e mezza di notte Ma devo, devo per forza perché parto per due giorni e quindi non riuscirevo Non riuscirevo, oddio come sto parlando Non sarei riuscita a portarvi video, quindi devo per forza Allora, guarda Ok Direi proprio di sì È assurdo, David Madsen avrebbe potuto aiutare Reckle È assurdo, non c'è La guerra è così vecchia, i nativi americani sa molte cose Facciamo così È assurdo, non c'è Mh, vabbè dai, firma Allora, abbiamo firmato questa petizione Io però, questa cosa avrà delle conseguenze Io... Avete detto una cosa nei commenti molto giusta Perché è brutto che questa cosa qui ti dica delle conseguenze E uno pensa, cavolo Quindi tu devi dare delle risposte in base anche alle conseguenze Alla quale vai incontro E devo cercare di non pensare alle conseguenze Perché sennò tornerei sempre indietro nel tempo Allora, mi è arrivato un messaggio Quindi, select, sms Oh Cristo Che cosa sta succedendo? Dobbiamo leggere tutto Ragazzi, vi chiedo per cortesia nei commenti Non fate spoiler Allora, leggiamo un attimino Allora Ti va un caffè dopo scuola Ho bisogno di una scusa per non studiare Per favore ricorda di guardare Necromantic sulla mia chiavetta Moi Ehi, Mad Max Spacchiamo tutto Aspetta, devo studiare per il compito di fisica Quindi se spacchiamo qualcosa dovremmo analizzare il fenomeno Non ignorarmi Madonna Ciao Max Puoi portarmi la chiavetta Ho bisogno di info e spazio Ehi là Scusa, sono in ritardo Giornata folle Ci vediamo al parcheggio Sarò quello figo Vedrai Sono pronta a far foto Tra poco Lo spero Al parcheggio Oddio, ma Buon compleanno Max, 18 anni incredibili Kate Uh, ehi Max Sei in giro sempre? Tutto ok? Ti vedi prendere un test più tardi? Assolutamente Sono libera dopo le 4 Come faccio a vedere Che È più tardi Come faccio a vedere Passa un diciottesimo compleanno Vabbè Maglio andare al dormitoio E prendere quella chiavetta USB Dov'è il dormitoio? Dov'è il dormitoio? Allora No, 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 no Qua ci sono pagine, pagine, pagine Ok Qua ci sono fotografie Quindi ora come ora Sono le persone che abbiamo incontrato A quanto pare Sì, sì, sì Episodio 1 Dove cavolo lo trovo io il dormitoio? Prologo? Lunedì? Ok, vabbè Allora Allora, allora, allora Il dormitoio Dove lo trovo il dormitoio? Parliamo un po' Cioè vediamo un po' Che di nostra gente Ehi, tu Parliamo di più tardi Bravissimo Devo trovare Allora Parking Sui main pool Allora Di là c'è la piscina Più il parcheggio Qui c'è Brooke Ehm Ci sono altre Indicazioni Tipo queste Ah, eccolo qua Allora Main building E Athletic Field E non ci interessa Uh, monete Guarda Perché non fai la foto? No Non si può fare Ehm Pannell espositivo Stella Stella Buon per lei Parliamo Madonna mia Che brutto Ehm Non lo so ancora I'm not sure yet I mean He's clearly a genius But I don't agree With everything he says He does get a bit pretentious But he's passionate And just says what he thinks If Victoria wasn't all over him I would definitely make a move Oh, oddio Victoria? Victoria? Victoria is pretty obvious I don't think Jefferson is into her I don't think she's closed the deal But she's not the only player Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell Rachel Amber Absolutely had sex with him Rachel Amber Di sicuro Well I heard that from a good source So You knew Rachel? Rachel I saw her hanging with the other cool kids Like Victoria Not my kind of click But I heard insane stories about Rachel Hmm Ci ho parlato di questa Rachel Io devo trovare Devo trovare il dormitorio Dormitorio Dove sei? Dov'è? Dove si trova il dormitorio? Forse è là Vediamo se è questo Dovrebbe essere questo Dormitorio L Perfetto Cartello Ok Ok Siamo arrivati ai dormitori Dobbiamo prendere questa chiavetta Vediamo che succede Questi video Intermedi Dov'è la mia stanza Ripetere la chiavetta Dov'è la tua stanza? Dov'è la tua stanza? Quando penso che la stanza è tutta per me Mi sento emozionata Allora Allora Si entra di là Se non sbaglio Penso proprio di sì Ecco Victoria Allevate Madonna Potresti spostarti? It's Max Caulfield The selfie hole of Blackwell What a lame gimmick Even Mark Mr. Jefferson Falls for your Wave hipster bullshit The daguerrean processor You could barely even say that I guess you got your meds filled Quantes Madonna Allora Mi sa che da qua Non si entrava Infatti So original Don't worry Max I'll put a vintage filter on it Right before I post it All over social medias Now Why don't you go fuck yourself Oh yes Victoria I'll get your bunny ass out of my way Hmm Da dove si entra? Possiamo entrare dalla scala Cioè salire dalla scala Allora si sono attivati Il rigatore Si sono attivati il rigatore Potrei poter essere legato il rigatore Sì E come si fa? E come si fa? Oh Come si Come faccio? Allora 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 Vediamo Dov'è esattamente la valvola? Uh No Meglio ancora Aspetta 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 Come fare? Dov'è la valvola? La valvola Mi serve la valvola La valvola Se gli rigatori sono qui La valvola sarà Forse dall'altro lato Perché mi ha fatto vedere? Indian's gum Qua c'è un altro Irrigatore La valvola Ci serve la valvola Però perché mi ha E infatti Non c'è solo un po' Un po' Un po' Vai più veloce Per favore Ah così Ma perché sbaglio sempre Tasto Ok La soluzione La soluzione a quanto pare È questo Coso Qua Però Samuel Come 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 Dannazione faccio Come Perché La soluzione La soluzione Come faccio Allora la soluzione è quella Per forza Semplicemente Scendi dalla scala Ok A quanto pare Ci stanchiamo Secchio Ma non metti Haha Ok Non ho capito bene Che cosa ha fatto Ma Comunque Intiende? Ok Samuel Samuel Da Vinci Che va a dipingere la finestra A mano ho messo il secchio Però vorrei capire Che cosa ho fatto Con quel secchio Ce la fa Ce la può fare A salire Sì 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 Dai Quanto sei lento Ora vediamo cosa succede Dovrebbe appendere il secchio Olè Allora la cosa È che Meglio di avvolgerla Ok No dobbiamo tornare Ancora più indietro Ok Manumetti Ok Let's see if this works E Una scala E una scala E una scala I just want to get Victoria The hell out of the way Victoria is not getting the hint Victoria non ci arriva Ok Now where exactly Is the sprinkler valve C'è qualcosa che C'è qualcosa Che non va Come Allora Irrigatore L'ho manomesso di nuovo Forse manomettendolo di nuovo Dovrebbe aver trovato direttamente La La soluzione Vediamo un pochettino Cosa succede adesso Ok L'ho manomesso No niente Come cavolo faccio Non posso tornare indietro No Non posso tornare indietro È un problema È un problema È un problema Perché non ho più Non ho più La cosa di riavvolgere A quanto pare Però lo fa lei Lo fa lei C'è una sola soluzione Potresti dirmi qual è Dai Sbagliato di nuovo Porca vacca Non riesco Non riesco ma Non riesco ma Come faccio a farli Trovarli là sotto Proprio Non mi torna Più indietro Dannazione No non riesco raga Non lo Non so proprio Non so come fare Eh ho capito Ho capito Ma non Non mi fa andare indietro Aspetta E se io facessi Allora Se io facessi Se io facessi Un bel niente Tieni premuto LT Per riavvolgere Ah ok Ok Perfetto Adesso non ce la fa più Scala Guarda Guarda Un bel niente Un bel niente Un bel niente Io non voglio Non voglio andare con quella Lattera E scuola E scuola Sì ma devi Scusarla Devi scuola Cosa posso fare Dannazione No 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 Devi tornare indietro Devi tornare Serve qualcosa Serve qualcosa Serve Non so cosa ma serve qualcosa Non so cosa ma serve qualcosa Cosa posso fare Guarda che cosa posso fare Caspita Irrigatore Dannazione No torna indietro Che cavolo devo fare Cioè l'unica Ok salta Ok salta E porca di quella vacca E ma no 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 Non va bene Non va bene Non va per niente bene Raga cioè Sto rischiando Seriamente Di rimanere Qui Perché non riesco Irrigatore Guarda Caspita Devo fare Dannazione Allora Io non posso Spost No non posso Spostare la scala Raga Non ho proprio idea Di Perché ci sono Peni disegnati No raga C'è una soluzione Nel cavolo Allora Torna un attimo Indietro per favore Ok Ma non metti Il secchio È ok Devi farlo però Oddio mio No 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 Raga c'è un C'è proprio Un problema Se mi piazzo qua Io E se mi piazzo Io qua O qua sotto Tipo mi piazzo qua No Raga ma tutto Per un secchio D'acqua Ma seriamente Tutto per un secchio D'acqua Rimani lì Lascialo lì Tu cadi Non va bene Non va bene Non va bene Non va bene Allora Il secchio È da manomettere Per forza Ok Tu non mi puoi aiutare No Qua dentro c'è qualcosa Usa Perfetto Dai 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 che casca il secchio Dai che casca il secchio Grandissimo Vai Vai Ok Alla Oddio Bentista Eh Diglielo Ora in teoria Dovrei passare Potrei passare Ora Oh poverino Prendiamolo in giro Neanche un filtro L'ha posto così Spettacolare Ma levati Ma chi se ne frega Ma chi se ne frega Madonna Ok Allora c'è una lavagna Tabellone Lavagna Poster Persona scomparsa È sempre la stessa Eh Poster Stanza di Max Eccola qua Ok Siamo nella nostra stanza Prendiamo sta maledettissima chiavetta Dove l'abbiamo messa Cassetto High five Apri Forse nel cassetto Ma Chloe Chloe non è Allora no Accendi Guarda Un fotografico portatile Il diario Il messaggio Ciao tesoro Il tuo preside Mi ha scritto una mail Dicendomi che è preoccupato Per il tuo comportamento Che non ti stai integrando E che ti nascondi Nel dormitorio Dormitorio So che è difficile Restare lontano da casa Anche se sei grande Ma sei lì per cambiare Il modo Il mondo Con le tue immagini Per favore Chiamami appena poi Così parliamo Ci manchi Baci mamma Allora portatile Usa Un aspetto patetico Bastard Ok però Mi serve la chiavetta Dov'è La chiavetta Guarda Annaffia Finestra Guarda Guarda Pocca Chitarra Scotti Cassetto Apri Vabbè Non sto trovando La chiavetta Pocca Nota Guarda Warren Mi ha lasciato Un piccolo messaggio Con il suo Flashtrive E' 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 I contagiati di questa chiavetta Sono di natura grafica Sconvolgentemente Questa raccolta è stata scaricata Alla massima cura Per il pubblico Più esigente Mi congratulo Per il vostro gusto Eccezionale E non vedo l'ora Di ricevere le vostre Recensioni approfondite Sul Cannibal Ok L'abbiamo presa Sta maledettissima Chiavetta Letto Zai Etio Sacchiotto Cassetto Hi-Fi Album Leggi Forse questo Eh ma in tutto questo Sta chiavetta L'abbiamo presa Sì o no? La chiavetta Dov'è la chiavetta Foto C'è gusto C'è gusto Ok Sparisce così La chiavetta Dannazione Presa Presa multipla Guarda Foto Foto Guarda C'è gusto C'è gusto C'è gusto C'è gusto seguite Telegram, seguite i social, ci vediamo, ciao!